Plastiche, metalli pesanti, mercurio sono tutte sostanze che oltre a inquinare l'ambiente possono inquinare anche l'organismo. Questo tipo di materiale è infatti capace di accumularsi e di biomagnificare nei livelli della catena alimentare, marina e terrestre. Attraverso questo corso studierai quali sono i meccanismi che regolano questi processi, quali sono le sostanze caratterizzate da elevata persistenza e tossicità e scoprirai in quale modo riescono ad arrivare all'organismo. Scopri quali sono le interazioni tra gli inquinanti ambientali e l'uomo e gli effetti del bioaccumulo e della biomagnificazione. Cosa aspetti? Iscriviti subito su federica.eu Grazie a tutti.